Noi ci battiamo perché ci sia veramente un buon provvedimento per il lavoro autonomo vero, per le vere partite IVA, pertanto abbiamo fatto una serie di proposte perché possa essere migliorato questo disegno di legge e queste forme di lavoro possono avere davvero delle buone tutele. Come abbiamo espresso invece sul tema del lavoro agile, la necessità che le norme siano fatte sulla contrattazione, che non sia previsto esclusivamente l'accordo individuale, ma sia frutto della contrattazione perché questi lavoratori devono continuare a essere parte della comunità del lavoro. Può essere una forma per migliorare la produttività, per affrontare meglio la conciliazione, per affrontare alcuni di questi temi, ma dentro in un alveo contratto olistico e non alla mercè.